Due anni intensissimi, pieni di attività, pieni di occasioni. Abbiamo aderito questo progetto perché c'era veramente l'opportunità di essere obbligati a stare intorno a un tavolo e confrontarsi. Quindi l'occasione è quella di poter conoscere altre aziende, vedere altre realtà, conoscere meglio le scuole. La generazione d'industria per noi è l'occasione veramente di investire sui ragazzi, con progetti lunghi, con percorsi lunghi. Con voi abbiamo studiato insieme delle attività da far svolgere ai ragazzi per poterli valorizzare nei loro percorsi. Quindi in questi due anni abbiamo creato percorsi e progetti con loro che si sono gruppati. Quello che è il grande vantaggio nell'essere all'interno di questo progetto è veramente il poter fare rete. Per noi questo è fondamentale. Consiglio ai ragazzi di essere curiosi ed entusiasti. Per noi l'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco sono veramente le caratteristiche fondamentali. Quindi consiglierei al mio ragazzo di arrivare a un colloquio con quel valore, quella voglia di fare che a vent'anni si ha e si deve avere. Grazie.